Le tre lettere più importanti dell'alfabeto BMW sono in grande spolvero qua a Ginevra. Abbiamo alle mie spalle una grande novità del mondo delle X, ormai un'auto su tre venduta nel mondo e anche in Italia appartiene a questo gruppo di automobili, la nuova BMW X4, l'auto che più mette insieme la razionalità di una SUV con le linee tipiche delle coupé BMW. Abbiamo anche la nuova X2 che stiamo lanciando proprio in questi giorni anche in Italia. Se prendiamo la lettera invece più potente del mondo, la M, da sempre DNA del gruppo BMW, qua abbiamo una bellissima concept M8 Grand Coupé, quindi un'automobile che ci fa intravedere quello che potrebbe essere una nuova declinazione delle nuove Serie 8 che abbiamo presentato in anteprima a Villa d'Este l'anno scorso e che lanceremo alla fine di quest'anno in versione Serie 8 Coupé. E poi parlando dell'Eye invece che è la lettera che incarna tutta la mobilità del futuro, l'elettrificazione ma anche l'innovazione, qui abbiamo due grandi novità. La rinnovata I8 Coupé con nuova tecnologia di bordo, nuova connettività, nuove batterie che permettono di avere un range di oltre il 50% maggiore in puro elettrico e poi un'auto attesissima da tutti i mercati del mondo, la I8 Roadster. Finalmente chi vuole guidare l'auto del futuro lo può fare anche all'aperto.